Un femminicidio si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato 16 marzo a Taurisano. L'episodio è avvenuto in un'abitazione di via Luigi Corvaglia intorno alle 17.30 circa. Aneta Danetic, una donna di 50 anni di origini polacchie, è stata uccisa a coltellate presumibilmente al termine di una colluttazione avvenuta con il marito. L'uomo avrebbe aggredito non solo la moglie ma anche la vicina di casa, alla quale la cinquantenne si sarebbe rivolta per chiedere aiuto. A raccontare quanto accaduto è stato il cinquantasettenne attraverso una telefonata al 113, fatta subito dopo il litigio, durante la quale si è costituito. La zona è stata raggiunta dai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La vicina di casa invece, dopo un primo soccorso sul posto, è stata trasportata presso l'ospedale Francesco Ferrari di Casarano. Le sue condizioni non sono gravi. Giunti presso l'abitazione dove è avvenuto l'omicidio, gli agenti della Polizia di Stato hanno trasferito l'uomo presso il locale commissariato di pubblica sicurezza diretto dal vicequestore Salvatore Federico, dove è stato ascoltato a lungo dall'APM Giorgia Villa e sottoposto a fermo. La coppia si sarebbe conosciuta in Svizzera dove entrambi lavoravano e si sarebbero poi trasferiti in Salento a Taurisano, il paese di origine del cinquantasettenne. La loro relazione però, dalla quale sono nati quattro figli, uno dei quali ancora minorenne, stava per finire. L'uomo che di recente era rimasto senza lavoro, secondo alcune testimonianze, avrebbe detto agli amici che aveva intenzione di compiere un omicidio, ma la cosa non era stata presa sul serio. Chi lo conosceva, infatti, non considerava il cinquantasettenne un uomo violento e non risulterebbero denunce per maltrattamenti. A suo carico, l'uomo avrebbe ucciso la donna con un coltello da cucina alla malunga che i poliziotti della sezione scientifica di Taurisano hanno rinvenuto all'interno dell'abitazione.